Siamo pronti per l'inizio del combattimento, ricordiamo il regolamento K1, K1, 5 raggiunti in categoria 71 km, all'angolo blu Zaccaria Morkid e all'angolo rosso Julian Imeri. Siamo pronti per l'impresa, Rockwell. Rockwell, Rockwell, Rockwell. Rockwell, Rockwell. 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 Termina la prima ripresa Ricordiamo ancora per tutti e pazienti di Sporting è possibile acquistare in esclusiva le magliette della salata all'angolo espositivo La Via della Spada All interested in person for to buy a souvenir of the night It's possible to take official t-shirt at La Via della Spada Promotion Point Fuori secondi, second out E' la seconda ripresa Round 2 Round 2 Grazie. 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 Fuori i secondi. Seconds out. Fuori. Fuori. E' la terza ripresa, round 3. 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 Fuori i secondi, second out. E' la terza ripresa, round 4. 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 4. Il G in vacanza, hotel e residenza, Iesololino. Ricordiamo ancora gli appassionati i ricordi subiti al disporto a comandamento le magliette ufficiali della serata all'angolo espositivo la via della spalla fuori secondi seconda quinta e ultima ripresa la Strau grazie 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 termina il combattimento grazie grazie tra poco il risultato ufficiale nel frattempo ricordiamo il sito ufficiale della manifestazione www.profali-esolo.it iscrivetevi alla nostra newsletter gratuitamente per essere sempre aggiornati sugli eventi interrogati profali e hanno consegnato in questo momento i cartellini ufficiali ladies and gentlemen the winner of the fight is trend corner l'angolo rosso un applauso a piene julian iberi